Disponibile presso la nostra concessionaria U-Drive, Fiat 500 1.2 benzina da 69 CV, allestimento Lounge. Parliamo di una vettura aziendale anno 2015, con circa 18.900 km, in ottime condizioni, perfettamente funzionante e con interni pulitissimi. Disponibile anche nella versione GPL. La Fiat 500 Lounge prevede di serie ESP, ABS, radio CDMP3 con Bluetooth, AUX USB, tetto panoramico in vetro, volanti in pelle sportivo con comandi a 8 tasti, veglia digitale con computer di bordo, servo sterzo elettrico dual drive, climatizzatore manuale con filtro antipolline. La Fiat 500 1.2 benzina da 69 CV è disponibile presso la nostra concessionaria in offerta a 9.490 euro nella versione benzina e 10.490 euro nella versione GPL. Vi garantiamo il prezzo più basso d'Italia.